Il lungo viaggio di 50x50 capitali al quadrato di Pesaro 2024 apre le porte al fascino del piccolo comune di Pietrarubbia che sarà capitale per una settimana dal 18 al 26 novembre proponendo una ricca offerta fra arte, musica, storia e scoperta del territorio dal titolo Le Urme del Contemporaneo. Pietrarubbia è legata in modo particolare al maestro Arnaldo Pomodoro che ha contribuito alla rinascita del borgo ma soprattutto è sempre stato molto legato al nostro territorio ed ha lasciato nel nostro comune diverse sue opere molto importanti a partire dall'obelisco di Cleopatra che si trova all'inizio del paese al bellissimo sole che si trova nella chiesa di San Silvestro sempre all'interno del borgo di Pietrarubbia e a tutte le opere che Pomodoro ci ha lasciato e sono raccolte in un'area del nostro museo di arte contemporanea quindi su Le Urme del Contemporaneo. Spero il museo di Pietrarubbia di arte contemporanea diventi un museo itinerante ma un museo anche aperto a tutti i giovani, i giovani artisti che vogliono mettere in mostra le proprie opere. Focus sul museo ma anche riflettori puntati sul castello. Il castello di Pietrarubbia risale al XIII secolo e da lì cominciarono, abbiamo le prime notizie riguardo il castello di Pietrarubbia. Poi ci fu nei secoli successivi, il XIV secolo, in occasione degli scontri tra Guelfi e Ghibellini, il passaggio del castello di Pietrarubbia direttamente sotto il ducato di Urbino. Pietrarubbia era famosa anche per l'estrazione del metallo, da qui il nome Pietrarubbia piace, Pietrarubra, perché le pietre del territorio sono ricche di ferro. Infatti gli artigiani dall'epoca lavoravano il ferro ed erano degli abili artigiani e i manufatti venivano esportati in tutta l'Italia centrale. La Pietrarubbia e il territorio sono stati già protagonisti e cernieri di altri progetti, in particolar modo a partire dal contemporaneo, anche nelle settimane dei comuni vicini e anche nel racconto della zona, anche negli appuntamenti costitutivi del 50x50, fatto Carpegna andare in questa direzione, partendo in particolar modo dalla storia del TAM, dal laboratorio delle Pietre Dure, segnato da Pomodoro, da Gentiletti, da Loriano Sguanci, cui sarà dedicata una delle iniziative in apertura, e anche dall'artista Paolo Soro, che sia come artista che esporrà, ma anche come uno degli artisti che, in rete, stanno portando avanti un lavoro importante di ripartenza, proprio a partire dal contemporaneo. Non mancherà la musica, naturalmente, non mancherà neanche l'aspetto artistico legato a diverse altre forme espressive, sicuramente un'attenzione, visto il luogo e la bellezza del paesaggio anche al territorio, fino anche alle presentazioni attraverso il CosaCedop di luoghi come il bar del paese, che diventa però anche in questo caso punto di informazioni per quello che accade nella capitale, e nel comune e nel territorio in generale, e anche per quello che è la promozione dei prodotti tipici, a partire dalle dopo, ma non solo, del territorio.